Si è svolta avanti l'ingresso del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata Potenza una cerimonia in occasione della donazione di una targa contro la violenza sulle donne che riporta il numero 1522, un numero gratuito anche dei cellulari ed attivo 24 ore su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. L'evento è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la donazione della targa è stata fatta dalla sezione di potenza della FIDAPA nell'ambito dell'iniziativa la rete delle donne per le donne. La FIDAPA è un'associazione composta in Italia da circa 10.000 socie con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Un numero pubblico a disposizione delle donne, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno dove le donne possono tranquillamente sentirsi liberi di denunciare ed è questo il nostro obiettivo invogliare le donne a denunciare fenomeni di violenza e di stalking e troveranno dall'altro lato persone professionisti pronti ad ascoltare e ad indirizzarle alla rete associativa che si occupano di queste tematiche in tutta Italia e anche nella nostra regione. L'iniziativa ha visto anche la collaborazione del Consiglio regionale e della Commissione regionale pari opportunità e dell'ufficio della consigliera di parità della regione Basilicata. Ho accolto ben volendieri l'idea di apporre proprio qui, come vediamo alle mie spalle, questa targa a simbolo per tutti noi e a monito di fare sempre di più, dobbiamo sempre impegnarci di più e soprattutto come legislatore. Quella del Codice Rosso del 2019 è un passo importante ma ancora troppo poco e i dati non sono confortanti. Ecco perché questa targa, proprio qui in questa sede così importante per l'intera regione Basilicata, ha una doppia valenza.